ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di lezioni con stile by Irina Tirdea in diretta su Iris tv vi ho promesso tendenze autunno inverno 2020 2021 eccoci qui cosa vi ho promesso ci sarà tanto di verde innanzitutto dei metalli in oro non poteva mancare il veluto ma anche dei inserti floreali il nostro trench il famoso trench che ci aiuta in qualsiasi occasione borse tantissime borse più piccoli e tutte a scelta e perché no possono essere anche doppie non poteva mancare un po' di fiola anche questo è un tocco per queste tendenze autunno inverno dedicare a tutti i cali autunni